La mostra sta proprio nella Casina Van Vitelliana, nelle tre sale, la sala principale e nelle sale laterali. Ci sono più di 30 opere, fino adesso c'è stato un grande successo di pubblico. Questo weekend, venerdì, sabato e domenica, è possibile visitarla. Ha avuto grande successo la mostra dal titolo Cibarsi d'arte dell'artista contemporaneo Francesco Stilo di scena alla Casina Van Vitelliana di Bacoli fino al 15 gennaio. Stilo crea una forma di espressività personale unica nel suo genere, mai realizzata prima. L'artista napoletano, con non poca genialità creativa, trasforma la matericità in tridimensionalità. La Cibart è una tipologia artistica che ho creato, unica, che si fonda questo linguaggio artistico sul cibo, gli alimenti, come nell'antichità. E di fatti nella preistoria c'erano le scene di caccia nelle caverne degli uomini primitivi, i romani rappresentavano i banchetti con il cibo, rappresentavano i cesti con la frutta, la rappresentazione del caravaggio con il famoso canestro di frutta. Picasso stesso, che ha fatto molte opere sulla natura morta, guttuso, dechirico. La mostra sta proprio nella Casina Van Vitellia, nelle tre sale, la sala principale e nelle sale laterali. Ci sono più di 30 opere, fino adesso c'è stato un grande successo di pubblico. Questo weekend, venerdì, sabato e domenica, è possibile visitarla. Qui addirittura il crostaceo che noi utilizziamo nella cucina mediterranea, nei nostri piatti, diventa un soggetto d'arte. Perché? Perché la bellezza dell'elemento naturale sovrasta la funzione. Poi ci illustra come conoscere meglio le sue opere e la sua arte. Sul mio sito web www.fragescostilo.it e lì ci sono tutti i contatti, oppure su Instagram, sempre fragescostiloarte.